E adesso che finalmente si può andare dappertutto, dove vado? Subito a Possagno, a vedere le due madalene di Sgarbi, quella di Caravaggio e quella di Canova. Ma soltanto un demone come Sgarbi poteva avere l'idea di metterle insieme. Lui che ha detto di Caravaggio ha visto la realtà come nessuno l'ha vista e di Canova ha detto ha visto l'ideale come nessuno l'ha vista. E in queste due madalene, così diverse come sono, qualcosa di terribilmente simile c'è, di spaventosamente umano, sono esauste entrambe. E cioè si vede come somiglia alla morte l'angoscia dell'orcasmo. Tutte due queste madalene sono sovranaturali per troppa umanità, subito a Possagno.